Grazie. 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 Sada ti imani dalje recimo. Kako će ovo igrati od treća četvrda omislite. Uzi što su sad, mi su ušli u kraju dvijek uđe. Uzi... 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 Sì! 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 Grazie. 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 Anche se non poteva da poter che vedi che vedi molli si e voi, perché nelle fotte si poteva insieme, e allora siamo riepoli. Non poteva, non poteva, non poteva, non poteva. Abında l'evo, dovevi, un po' che non poteva, un po' che non poteva. E allora, non poteva il potere e non poteva, non poteva, ma pure... E allora, non poteva, è più un... a tomto dal Grazie. Grazie.